Per una gioia più grande, New Reel, oggi con Daniele Durante. Ciao Daniele, presentati! Ciao a tutti, mi chiamo Daniele Durante e sono di Lecce, sono nato e cresciuto in Germania. Sono un cantatore di musica cristiana e attraverso la mia musica cerco di evangelizzare, di portare in giro la parola del Signore. Abbiamo ascoltato da poco la tua ultima canzone che si intitola Il Meglio Per Te. Qual è il messaggio? Il messaggio che voglio dare attraverso la canzone Il Meglio Per Te è quello di spiegare a mia figlia Dalia l'amore in tutte le sue forme, di dare tutti i consigli più sinceri per affrontare questo mondo un po' confuso e quello di poter ottenere il meglio per sé. Ecco, io lo considero, questa canzone, come un prontuario di indicazione alla vita, ma mi permette anche quello di farmi portavoci di tutti i genitori. Cioè, sono consigli che voglio che tutti i nostri figli possano ricevere per affrontare meglio la vita. Per una gioia più grande!